Ah! No! Cos'è? Questo è Ciu Ciu Charlie! È praticamente un treno ragno che ti attacca Raga, lui non ci vede, è lì, credo Spero che non ci abbia visto Oh mio Dio, che schifo, guardate come cammina Questo treno più maledetto di mia nonna me l'ha consigliato uno di voi Ringrazio Valerio per avermelo consigliato Ciu Ciu Charlie, se non sapete, è un treno maledetto che sta nascendo proprio in questo periodo Uscirà anche un gioco di questo terribile treno Comunque io non capisco, che cos'è questa casa? Peraltro qua vedo altro sangue, cioè in realtà è redstone, se vedete Sì, è pietra rossa Ho sentito un rumore strano E qua c'è un buco, perché c'è un buco? Che cos'è questo buco? Credo sia spawnato il treno proprio qui dentro purtroppo No, 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 io me ne scappo, stanno facendo un casino assurdo E beh, qua, caspita c'è, c'è un altro tunnel No raga, questi tunnel mi fanno sempre paura perché c'è sempre qualcuno in questi tunnel maledetti Ok, oh, sembra che qua si salga Io non so però dove si sale perché non vedo niente Prendiamo la spada Ok, sembra effettivamente che siamo all'esterno Il che non è... ho paura Che cosa saresti tu? No, vai vi... raga, che cos'ha? Ma ho sentito che caspita di versi sta facendo Ma che caspita è? E poi sta dicendo non essere cattivo No, no, tranquillo, non farò il cattivo Non ti preoccupare Raga, 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 raga Sta, sta venendo da me? Guardate, io per il momento non faccio più niente Me ne sto qua in casa E aspetto che voi mi diciate per favore Che cosa devo fare contro questi mostri orribili Qui?